Andrea Marabini, capitano della Paima, pareggio gambolesco, direi meritato, ci voleva proprio questo punto per la qualificazione? Sì, ci voleva, noi siamo i reduci del campionato dell'anno scorso, i vincitori, quindi siamo partiti un po' piano, ma adesso arriveremo anche noi, piano piano, noi siamo un po' dagli infortuni, un po' carenza dei giocatori, però teniamo l'oro. Cercare di essere l'outsider? Sì, sì, loro sono i primi, l'anno scorso ce l'abbiamo battuta sempre anche con loro, proveremo anche quest'anno. Chi vedi tra i favoriti del campionato? I favoriti del campionato? Noi se torniamo come eravamo l'anno scorso siamo un bel avversario tosto per tutti, e so anche loro giocano molto bene. Ok, complimenti e in bocca al lupo per il proseguo. Perfetto, grazie.